Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle, Marty. Quarta, quarta! Quarta, 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 quarta! 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 Quarta, 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 quarta! Quarta, 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 quarta! Questa canzone era presente in uno spot, voi dovete dirmi cosa si pubblicizzava in questo spot. Quarta, 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 quarta! Chi è? Allora, qui ho Andrea che le ha beccate tutte e cinque. Anche i burritos. I burritos. Dico, Andrea. Ma hai altra mano? Andrea. Che cosa? Le ha beccate tutte e cinque. Lei? Dite, dite. Dite, dite. Quello in piedi siete voi. Dite, dite. Vedi che te lo abbiamo. Ciao. Mi amici di Pino si pregano una ricca birra che c'è la popola del nord. E' la poppa del nord. Lo crede. Un applauso a quelli in piedi. Vai! E' il buon secondo. E' il buon secondo. E' il buon secondo. E' il buon secondo. Basi il buon secondo. E' un attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Grazie! Grazie!